5 Infusi per ridurre l'ansia d'astinenza da nicotina. Oltre a calmare l'ansia e il nervosismo che ci portano a fumare, questi infusi disintossicano il corpo dalle sostanze nocive del tabacco. Chi decide di abbandonare il vizio del fumo sarà ben lieto di conoscere alcuni rimedi naturali per ridurre l'ansia d'astinenza da nicotina. Evitare di fumare, infatti, diventa un compito difficile, soprattutto quando la persona fuma da molto tempo e ha l'abitudine di combattere l'ansia proprio tramite il fumo. Tuttavia, basta prendere la decisione di abbandonare questa abitudine per muovere un primo importante passo verso uno stile di vita più sano. Sebbene all'inizio sembri difficile, con il passare dei giorni la dipendenza si riduce. Per fortuna, ci sono alcune tisane 100% naturali che possono diventare un grande aiuto per combattere questo problema, non solo perché riducono il desiderio di fumare, ma perché agevolano la disintossicazione del corpo. A seguire vi presentiamo i 5 migliori infusi per ridurre l'ansia d'astinenza da nicotina. Assolutamente da provare! Infusi per ridurre l'ansia d'astinenza da nicotina 1. Infuso di passiflora L'infuso di passiflora ha proprietà rilassanti che riducono l'ansia causata dall'astinenza da nicotina. È uno dei trattamenti naturali per la sindrome d'astinenza, comune tra chi decide di abbandonare il fumo dopo molti anni. Ingredienti 1 cucchiaino di passiflora 5 gr 1 tazza di acqua bollente 250 ml Preparazione Aggiungere un cucchiaino di foglie di passiflora in una tazza di acqua bollente e lasciare riposare per 10 minuti. Trascorso questo tempo, filtrare e servire. Modalità di consumo Bere 2 o 3 tazze di infuso al giorno. 2. Infuso di zenzero Lo zenzero è una delle piante antiossidanti e antinfiammatorie che possono aiutare a rimuovere i residui tossici che la sigaretta lascia nel corpo. Le sue proprietà lenitive controllano il desiderio di fumare e gradualmente aiutano ad abbandonare questa abitudine nociva. Ingredienti 1 tazza di acqua bollente 250 ml 1 cucchiaio di zenzero grattugiato 10 gr Preparazione Far bollire una tazza di acqua e, giunta a ebollizione, aggiungere lo zenzero grattugiato. Lascia riposare circa 10 minuti e passare al setaccio. Modalità di consumo Bere 2 o 3 tazze di infuso al giorno. 3. Infuso di ginsenghi Il consumo quotidiano di infuso di ginsenghi è un trattamento naturale per ridurre l'ansia d'astinenza da nicotina e gli effetti della stessa sull'organismo. Il suo poter purificante facilita l'espulsione delle tossine, mentre la sua azione antiossidante protegge e rinforza le cellule. Ingredienti 1 cucchiaino ginseng 5 gr 1 tazza di acqua 250 ml Preparazione Mettere il ginseng in una tazza di acqua calda e lasciar riposare per 10 minuti. Filtrare e bere Modalità di consumo Bere una tazza di tè al ginseng al primo segno di ansia. 4. Infuso di erba di San Giovanni L'erba di San Giovanni è un rimedio naturale con proprietà antidepressive e rilassanti che possono migliorare lo stato d'animo mentre alleviano l'ansia. Il suo infuso si usa come complemento per abbandonare il tabacco, in quanto riduce il desiderio di fumare. Ingredienti 1 tazza di acqua 250 ml 1 cucchiaino di erba di San Giovanni 5 gr Preparazione Mettere a scaldare una tazza di acqua e, quando bolle, aggiungete l'erba di San Giovanni. Lascia riposare fino a raggiungere una temperatura adatta per il consumo e poi filtrare. Modalità di consumo Bere una tazza di tè a digiuno e, se necessario, ripetere il trattamento a metà pomeriggio. 5. Infuso di liquirizia L'infuso di liquirizia è una bevanda naturale utilizzata da decenni come trattamento naturale per ridurre l'ansia d'astinenza da nicotina. I suoi rizomi e le sue radici hanno risorse naturali che migliorano lo stato d'animo generando una sensazione di benessere che riduce la dipendenza dalla sigaretta. Ingredienti 1 cucchiaio Radice di liquirizia 10 gr 1 tazza di acqua bollente 250 ml Preparazione Versare un cucchiaio di radice di liquirizia in una tazza di acqua bollente e lasciar riposare da 10 a 15 minuti. Una volta raggiunta una temperatura adatta per l'assunzione, filtrate e servire la bevanda. Modalità di consumo Bere una tazza di tè prima di colazione o al primo segno di ansia. State cercando di smettere di fumare? Se è così, ma anche in caso contrario, prendete questa decisione e aiutatevi con questi infusi per affrontare la dipendenza da nicotina che può causare molti problemi di salute.